Buon mercoledì 22 luglio. Ritorno sulla riflessione di ieri mattina relativa al rapporto tra paura, angoscia e depressione. Non penso che esaurirò l'argomento perché ritengo che questa triade sia una domanda fondamentale per gli esseri umani, una domanda che deve essere necessariamente sviluppata senza affrettarsi a cercare una risposta definitiva perché è una domanda che è rivolta a ciascuno di noi, a ciascuno di noi in relazione con il prossimo e alla nostra dimensione collettiva in relazione con l'ambiente. Quindi è una di quelle domande che toccano profondamente il senso della nostra vita nel tempo corrente. E torno su questa triade perché ritengo che rappresenti sicuramente una delle basi fondamentali dell'intero universo, che sarebbe meglio definire multiverso, rappresentato dalla multidimensionalità della sofferenza umana e dalla multidimensionalità della salute dell'uomo nella sua completezza di corpo, spirito, anima e immersione nella natura. È dunque una domanda che ci interrogana interiormente e contemporaneamente apre interrogativi infiniti sul nostro comportamento, sui nostri stili di vita, sul nostro modo di essere, di stare a questo mondo. Noi abbiamo ricevuto negli ultimi decenni numerosissimi moniti che cercavano in tutti i modi di ricordarci che il nostro modello di sviluppo era estremamente pericoloso per l'abitabilità della terra per la nostra specie. Sostanzialmente, sfidando le regole della vita e della natura, gli esseri umani hanno pensato di poter diventare i predatori illimitati delle risorse che hanno trovato e che trovano nell'esserci a questo mondo. E tutto questo si traduce in progressive modificazioni climatiche, atmosferiche, di modificazioni che toccano tutti gli aspetti del pianeta e delle quali condizioni noi non siamo del tutto consapevoli sul piano della piena coscienza. Ma c'è probabilmente qualcosa di impercettibile che viene molto prima dello stato di coscienza e che allerta la nostra vita, ci riporta cioè alla condizione originaria dell'esistenza, quello dell'essere stati gettati nel mondo con una coscienza evoluta e con una sfida e una provocazione allo stesso tempo, visto che siamo così intelligenti, perché non diventiamo noi i creatori della terra anziché prudenti abitanti che si prendono cura della propria casa. È una grande suggestione questa che tocca la vita di ogni singola persona nelle sue relazioni e che in qualche maniera è alla base di tutte le sofferenze che in modo diverso finiscono per caratterizzare la vita di ciascuno. Se pensate che lo stato depressivo è ritenuto come un elemento di base nella gran parte degli stati di intossicazione etilica, cioè quello che viene a mio parere impropriamente definito ma così lo rappresentano, l'alcolismo, è considerato espressione sintomatica in gran parte delle situazioni di stati mentali depressi, autocorretti attraverso la ricerca di forme inebrianti. Non è una teoria che mi convince naturalmente ma anche se rimanessimo nell'ambito di questa teoria è chiaro che c'è un duplice passaggio da fare. Da una parte correggere un comportamento che è lesivo delle condizioni di salute non solo fisica ma anche relazionale della persona ma allo stesso tempo ci invita ad andare oltre l'alcol. La famosa affermazione attribuita a Udoli, parlare dell'alcol per parlare d'altro, parlare d'altro per parlare dell'alcol. È un invito a cogliere una comune matrice nel comportamento del consumo inebriante di bevande alcoliche e negli stati crepuscolari degli esseri umani sostanzialmente negli stati in cui le persone risultano insoddisfatte della propria esistenza, cioè che vivono l'esperienza del disagio spirituale concretizzato nell'incapacità di accettare se stessi alle condizioni date. Affermazione apparentemente molto semplice ma ricca di una grande complessità che appunto ci permette di parlare di questa condizione del disagio spirituale perché ci permette in qualche maniera di accennare a quali sono i meccanismi che inducono condizioni di intossicazione etilica nonostante l'evidenza dei danni e contemporaneamente favoriscono un ragionamento sull'alcol non fine a se stesso ma come campo sperimentale e di conoscenza per cogliere quali sono i nostri errori di visione dell'esistenza applicabili ad altre condizioni umane. Alcol e disagio spirituale si intrecciano profondamente, alcol e depressione sono due aspetti ricorsivi che si rincorrono vicendevolmente e quello dell'alcol è solo un esempio perché potremmo andare su moltissime altre forme di comportamento ritenuto, ripeto, a mio parere impropriamente patologico e che dovremmo riportare a un principio di normalità nel senso di cogliere in questi comportamenti una narrazione che riguarda le condizioni che noi viviamo. Ebbene, ritorno su quella triade riportandola alla necessità di aprire un'ampia riflessione che come ho ricordato ieri per ora è stata completamente confinata nella distinzione angoscia e paura e legittimità della paura nei confronti del virus. L'unica cosa che può oggi giustificare la paura compresa l'autoassegnazione della propria libertà a mani esperte, politiche e scientifiche che si caratterizzano per una presunta capacità di liberarci dalla minaccia incombente. È interessante osservare come in realtà quella minaccia incombente identificata nell'oggetto virus è qualcosa di molto più vasto perché il virus appartiene alla natura e non riusciamo e la scienza in questo non ci sta aiutando se non in riflessioni molto di nicchia, scarsamente accessibili e non fatte transitare dai media. Ebbene, la vera minaccia non è il virus, ma è quello che purtroppo senza risultato gran parte della scienza della complessità ha cercato di mettere in evidenza in questi ultimi decenni. Quello che noi, per assecondare i nostri insani desideri, il nostro superamento di limiti invalicabili, abbiamo finito per creare delle condizioni di potenziali inabilità, cioè non essere in grado più di vivere su questo pianeta per le condizioni che noi stessi abbiamo creato e rispetto alle quali la Terra si attrezza per favorire altre forme di vita che hanno di fronte a sé miliardi di anni ancora per conoscere nuove modalità di sviluppo e di evoluzione. E' interessante osservare come l'allarme si è completamente allontanato dalla deforestazione, dal cambiamento climatico, dalla acidificazione delle acque, dallo scioglimento degli acci, dalla aggressione a tante forme di vita che vivevano nei propri ambienti e naturalmente c'è anche l'elemento dell'idea del progresso inarrestabile e infinito garantito dalla scienza e dalla tecnica e da uno sviluppo demografico sempre più insostenibile. Allora per quale ragione la scienza non ha voluto sottolineare nella fattispecie dell'epidemia che erano quelle le condizioni, che erano quegli gli oggetti minacciosi che si stagliavano all'orizzonte rispetto ai quali dovevamo trovare i giusti rimedi. Oggi ci chiedono di alternativamente tornare alla normalità e contemporaneamente essere pronti a autoconfinarci in virtù del fatto che possano o meno crescere i contagi. Ma non è che ci dicono che, attenzione, smettiamo di deforestare. Creiamo un patto collettivo rispetto a un blocco dello sviluppo non sostenibile, di un cambiamento radicale della stessa visione economica che in questo momento caratterizza il pianeta la crisi post-infettivologica, che sarà una crisi economica, si cerca di affrontarla con la stessa logica di quello sviluppo inarrestabile che ha creato le condizioni di quell'epidemia. Dopodiché, non prendendo nessuna precauzione nei confronti di tutto questo, rassicurati da una scienza del distanziamento sociale, pensiamo di poter tornare a fare le stesse cose di prima. Liberati naturalmente rassicurati rispetto alla paura, cioè non riconosciamo le vere minacce, che però lo stato di angoscia, che è una condizione che è precedente alla coscienza e alla conoscenza, mette in evidenza, perché l'angoscia segna in maniera significativa i limiti del nostro esserci al mondo, naturalmente limitati. E l'angoscia è esattamente quella condizione che ti aiuta a essere semplicemente prudente per minacce che potrebbero apparire all'orizzonte. Se noi continuiamo a trattare lo stato di angoscia semplicemente come un deficit della persona e non ne cogliamo la condizione di naturalità del soggetto finito e limitato nello scorrere del tempo, credo che perdiamo un'occasione straordinaria per rileggere in maniera radicale la cura dell'anima stessa. Se noi riprendiamo il discorso di cura dell'anima, di psicoterapia, e facciamo in modo che anche attraverso il dialogo interpersonale in contesto di cura, si affronti l'angoscia come esperienza personale che va allargata ai contesti di vita delle persone, agli stili di vita, al modo di vivere, rafforzando la convinzione, portando l'angoscia allo stato di coscienza, di consapevolezza e di conoscenza che questa rappresenta sì un elemento di sofferenza, ma necessita soprattutto di essere condivisa, di fare in modo che essa si liberi nella persona ma anche in coloro che stanno intorno a quella persona per diventare soggetti più prudenti. Pertanto la cura dell'anima non può eludere la questione dell'affrontare il problema del cambiamento degli stili di vita. In fondo i club hanno fatto esattamente questo, sono partiti dal comportamento degli stili di vita, ma hanno aperto un discorso straordinariamente efficace sul disagio esistenziale, sul disagio spirituale del nostro tempo, che tocca tutti gli aspetti della vita umana, dalla politica, l'economia, la cultura, la religione. Tutto questo naturalmente fa sì che la cura dell'anima non possa essere confinata soltanto in un contesto separato dal contesto comunitario. Certo, questo non significa che non faccia bene approfondire in un contesto d'amore perché la psicoterapia è semplicemente una relazione d'amore che permette alla persona di riprendere fiducia in se stesso, di accettare la propria angoscia e di liberarla, ma non in un percorso fine a se stesso, ma in un percorso che richiama alla relazione condivisa. Sarebbe bello che tutte le forme di psicoterapia, cioè di cura dell'anima, comprendessero e si armonizzassero con una prospettiva comunitaria, di conoscenza condivisa, con un impegno culturalmente condiviso, a cambiare il nostro modo di vivere, per accogliere l'angoscia come un discorso di accettazione della nostra finitudine e fondativo del nostro modo di vivere e di interpretare la produttività, l'economia, le relazioni con l'ambiente e il progresso stesso. Nessuno nega che il progresso sia una condizione umana estremamente importante, tutt'altro, ma il progresso deve obbedire alle leggi dell'evoluzione della vita, che sono leggi universali, immutabili, costantemente capaci di una trasformazione adattativa che ha come fondamento il rispetto della vita. Pertanto io ritengo che l'intero campo della salute mentale dovrebbe essere capace di armonizzare il rapporto intersoggettivo con il rapporto comunitario con gli stili di vita e con la revisione critica del nostro modello di sviluppo. Così facendo potremmo riprendere dimestichezza proprio con questa angoscia che si libera e che liberandosi ci permette di esserci a questo mondo, pur nella sua transitorietà della nostra esistenza, ma con la consapevolezza che noi siamo soggetti mortali che partecipano all'eternità della vita. Sembra una contraddizione, ma è una realtà estremamente capace di farci vivere serenamente. Il transito su questa terra, il nostro essere pellegrini su questa terra, cioè persone che camminano e che non lasciano insane eredità, ma fanno in modo che la vera eredità che ciascuno di noi lascerà sarà quella di svelare un piccolo frammento del senso della vita. La sua completezza non la comprenderemo mai, ma potremmo in ogni caso essere e sentirci partecipi al senso stesso della vita, avvalendoci naturalmente anche della nostra capacità di conoscenza e di consapevolezza, che non ci libereranno dell'angoscia, ma faranno sì che quell'angoscia da fatto negativo diventi uno stimolo costante a vivere nella sobrietà e serenamente. Per fare tutto questo non possiamo lasciare le cose alla spontaneità. Dobbiamo impegnarci, dobbiamo studiare criticamente, dobbiamo cogliere anche i tentativi di manipolazione che oggi esistono in queste artificiose distinzioni tra paura e angoscia attribuite l'una al campo della normalità, l'altro al campo della patologia. Sono due cose distinte ma interconnesse che appartengono al comune terreno della vita che noi condividiamo in questa terra. Ripeto, non penso di poter esaurire in queste poche battute un discorso così complesso, ma mi invito a incominciare a riflettere sul piano intimo ma soprattutto sul piano interpersonale su questi aspetti, anche quando l'angoscia sembra attanagliarci, sembra arpionarci e bloccarci, in realtà quell'angoscia ci sta in qualche maniera provocando, cioè ci sta ponendo delle domande che non possiamo tenere dentro noi stessi, dunque liberiamo quelle domande affinché diventino domande collettive e condivise. Buona giornata a tutti.